Come riconquistare una ex a distanza. Spesso e volentieri molti miei viewer, molte persone che guardano questi video, hanno questa specifica particolare, cioè la relazione a distanza. Bene, in questo video cercherò di darti un'infarinatura generale per quel che riguarda la relazione a distanza, considerando, ti prego, considera questa cosa, cioè è un video generalista. È un video che, insomma, dà degli spunti, non è un video costruito sulla tua situazione specifica. Quindi, se desideri entrare in contatto con me e spiegarmi la tua situazione specifica, ti invito a guardare in descrizione e capire come entrare in contatto con me, scrivere al mio staff, eccetera, eccetera. Quindi partiamo da qua. Prendi questo video con le pinze. Anche perché, nella mia esperienza, ho notato che tutto quello che riguarda la relazione a distanza è sempre un po' una sfaccettatura, un colore che cambia di intensità e tonalità a seconda della situazione. Perché, anche banalmente parlando, dal punto di vista logistico, noi siamo a distanza di 100 km un conto, siamo a distanza di 600 un altro, se siamo in due paesi diversi un altro ancora, se ci siamo conosciuti a distanza ed è rimasta sempre a distanza, se ci siamo conosciuti a distanza poi ci siamo messi insieme, poi ci siamo lasciati e siamo ritornati a distanza, oppure se ci siamo conosciuti, siamo stati insieme, bla bla bla, e poi dopo ci siamo separati. Cioè, capisci che ci sono mille mila sfaccettature quando si tratta di questo tipo di relazione. E comunque, a prescindere, ripeto, in questo video voglio darti un'infarinatura generale. Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi contenuti, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Intanto partiamo da qua, le relazioni a distanza. Diciamo che per quello che è la mia personalissima visione, quindi non da consulente ma da Teo Savin, personalmente io le relazioni a distanza non riesco a reggerle, perché per come sono fatto io, lo spiego anche molto bene in questo libro qua, tra l'altro ti invito a cercarlo su Amazon se hai voglia di leggerlo, per come sono fatto io ho bisogno di sentire la carne, sentire il sapore, la presenza, la voce dell'altra persona, non semplicemente magari un rapporto passami il termine freddo attraverso uno schermo, ma questo sono io e posso capire che ci sono tante altre persone diverse da me. All'interno della dinamica relazionale della distanza abbastanza lunga, entrano in fattore un sacco, un sacco, un sacco di cose. Intanto, ogni volta che noi ci vediamo è una festa, quindi tu non vivi con lei l'effettiva quotidianità della relazione, cioè non hai lei che ti lascia i cappelli nella doccia, o tu che lasci le mutande sporche in mezzo alla casa e lei ti riprende, quindi non c'è la dinamica della vera quotidianità. Quindi quando voi vi vedete, anche fosse una o due volte al mese, dove c'è una distanza, ogni volta che vi vedete è una festa, un'allegria, che bello, i conflitti sono sempre minimi in queste situazioni, o quando ci sono magari durano qualche giorno per poi ritornare all'armonia. In una condizione diversa questi conflitti chiaramente assumono una dimensione diversa. Quando c'è la distanza, è chiaro che se noi non siamo nella stessa città, non siamo nello stesso contesto, interviene un problema logistico, quindi non starò qua a raccontartela più di tanto, se abbiamo un problema logistico, abbiamo un problema logistico. Quindi non è impossibile riconquistare un'ex a distanza, ci mancherebbe altro, bisogna mettere sul piatto il fatto che lei sta in un contesto diverso, più stimolante, sta in un contesto più avvincente rispetto magari al paesiello di provincia dal quale è partita, dove stavate insieme. Tutte queste cose bisogna metterle sul piatto. In linea di massima, una linea abbastanza generale che accomuna un po' tutte queste situazioni, è la percezione che l'altra persona ha di te. Che cosa significa? Significa che l'altra persona ti percepisce, quindi ti vede e ti sente in un determinato modo. Questa sua percezione è filtrata dalle emozioni che l'altra persona prova. Quindi io, mettendomi un po' nei panni della tua ex, tu sei la vecchia ciabatta messa lì in un angolo puzzolente, e magari per tanto tempo hai fatto il tuo dovere, quindi ti ho portato in casa, bla bla bla, A oggi il nuovo contesto per me rappresentano i tacchi a spillo, quindi è bello, è stimolante, e come dire, sono situazioni che mi permettono di esprimere me stessa da altri punti di vista, piuttosto che dal punto di vista della ciabatta, giusto per darti un'idea. E quindi che cosa accade? Accade che nel momento in cui tu comunichi con lei, nella stessa identica forma che utilizzavi precedentemente, tu non vai a modificare la percezione che l'altra persona ha di te, ok? Qual è il punto? Il punto è che, quindi, bisogna andare a lavorare sulla percezione che l'altra persona ha di te. Questo significa utilizzare i social in maniera appropriata, questo significa comunicare con l'altra persona in maniera appropriata, di modo che vai a ristabilire intimità, attrazione, vai a riaccendere un po' la chimica, e quindi ti devi trasformare da vecchia ciabatta a tacco a spillo anche tu, ok? Quindi bisogna, come dire, bisogna andare a dare una mano di bianco alla tua immagine, andare a ristrutturare un po' la tua immagine, perché purtroppo, ragazzi, l'immagine in questi contesti è tutto. L'immagine fa cambiare la percezione, non c'è un cazzo da fare. Prima ci mettiamo via quest'idea, meglio è. Quindi se tu sei una persona che non ha amici, non ha gruppi con cui frequentarsi, non è in delle condizioni particolarmente belle, attraenti a un high status, tra virgolette, quindi a un alto status sociale, ma sei lì al parchetto con due amici e ti fai le canne, per capirci, è ovvio che non rappresenterai per lei un qualcosa di stimolante. Quindi prima di volerla riconquistare, devi capire che devi diventare stimolante nei suoi confronti, ma per essere stimolante nei suoi confronti devi avere una vita stimolante. Ecco perché io spingo tanto nei confronti della riabilitazione emotiva, perché è quello che ti permette di fare quel passo in più, di accedere a tutta quella serie di capacità che potenzialmente tu hai già, che però in questo momento sono lateralizzate dal tuo stato inquinato, dal tuo bisogno che hai nei suoi confronti. Quindi è necessario che tu investa sul creare una tua vita, un tuo lifestyle, chiamiamolo così, stimolante. Un qualcosa che ti porti a essere percepito in una maniera diversa, che non significa spersonalizzarti, ok? Perché immagino che se tu sei da solo, non hai amici, non hai... Ma adesso questa sembra una cosa tanto lontana, ma credetemi, è quotidiana questa cosa, perché ci si è messa di mezzo anche una cazzo di pandemia a dividerci. Quindi più noi stiamo nell'isolamento, più noi stiamo senza persona, senza amice e quant'altro, più io in realtà magari sono triste, più sono giù di morale, più non ho stimoli esterni, quindi mi chiudo in me stesso. E l'unica fonte di divertimento, di stimolo che mi rimane è appunto la mia ex. Se io invece capisco il meccanismo e comincio a rigirarlo su se stesso, e capisco che prima di tutto devo io, in prima battuta, diventare una persona attraente, bene, in quel caso comincerò a lavorare verso la giusta direzione. Cioè tu non puoi essere stimolante per la tua ex se non sei, se non hai tu una vita stimolante. Immagino che questo ti faccia anche un sacco piacere, perché è banale dirlo, ma stare soli, essere isolati, eccetera, non piace a nessuno, eccetto a me. Però di base non piace a nessuno. E se tu cominci ad avere una vita stimolante, se tu cominci ad avere una vita piena di persone, belle che ti circondano, un gruppo dei pari che ti porta a elevarti, che magari ti porta ad acquisire delle capacità diverse, entrare in contatto con realtà diverse che magari prima non pensavi neanche esistessero. Caspita, è chiaro che poi dopo hai delle storie da raccontare, hai dei film che puoi fare, no? Hai tutta una serie di... Cioè diventi una persona iper stimolante anche verso l'esterno. E quindi la tua ex, quando comincia a cambiare la percezione di te, comincia magari a guardarti da un altro punto di vista, e magari inizialmente ti permette una comunicazione un po' più intima. Da quella si passa all'accendere un po' l'attrazione, da quello si passa al creare le situazioni per poter poi vedersi vis-à-vis. E questa cosa è un processo graduale che per carità necessita tempo, sforzi. Mica ho inventato il sistema difficile a caso, perché effettivamente è un processo difficile. Questo ti porta piano piano a riconquistare l'altra persona, ok? Quindi, mi raccomando, metti bene in chiaro quest'idea. Poi, se, come spesso accade sotto nei commenti, qualcuno mi dice, Teo, ma sono stato bloccato su tutti i social, ci siamo lasciati da un anno, lei, io sono in Italia, lei in Norvegia, non torna qua se non tra sei anni, beh, lì in quel caso è inutile che dici, ma io nella mia condizione che faccio? Lascia perdere. Perché ci sono dei contesti dove riconquistare non è più possibile, ok? Quindi, mi raccomando, concentrati su queste sfaccettature. Io intanto ti lascio a questo video, te lo consiglio io e te lo consiglio anche YouTube, quindi vattelo a vedere e noi ci aggiorniamo presto. Non fare stronzate, mi raccomando.